La vanga è la minaccia incombente come può essere il terremoto, come può essere l'alluvione grande come può essere in forma più stolta la guerra, ma la valanga è stata anche la spinta, la forza che mi ha fatto uscire da questi paesi per andare verso la città. Io ero con un film al festival di Locarno dove presentavano un film che si chiamava Quartetto Basileus, di Fabio Carpi, ecco il regista, e con Villi venne a complimentarsi, a presentarsi, mi disse che aveva visto Padre Padrone, il film dei Taviani, e niente, parlammo, bevemmo una cosa, mi portò anzi, poi dopo essersi conosciuti mi portò a un grotto cosiddetto svizzero, e davanti a un bicchiere di vino abbiamo parlato del più del meno, del cinema, dei nostri rapporti con il cinema e insomma grandi pensieri, prospettive, sogni, soprattutto sogni nel cinema, perché il cinema se non si sogna non lo si può fare. Abbiamo visto dei diversi film, film che si svolgono tantissimo anche sulla frontiera fra Svizzera e Italia, che in certi momenti ti sembrava, ma come da noi, solo che qua per esempio conosciamo la storia che tanti emigravano da Slovenia in Italia, lì sono italiani che emigravano a Svizzera, che ti fa riflettere insomma che queste frontiere sono un po' uguali, un po' simili in diversi posti, dipende solo da quale parte guardi.